RCS Sport Qual è la valutazione alla base di questa scelta? La valutazione è quella di comunicare al nostro pubblico che sono il pubblico B2B quindi dei partner, dei clienti e comunicare che RCS Sport si è rinnovata e oggi si presenta sul mercato come una società che offre un servizio a 360 gradi. Un servizio che è orientato ad aiutare i nostri partner a produrre risultati all'interno del mondo dello sport. Quali sono gli obiettivi che RCS si pone per il 2011? Gli obiettivi sono quelli di cavalcare l'onda, cavalcare un'onda che speriamo riprenda, che è quella del mercato, di un mercato che penso che no, senza penso che va sempre più a cercare delle aree che creino engagement con il proprio pubblico, che creano coinvolgimento. La mia opinione è che non c'è niente come un evento sportivo, come la passione sportiva che crea questo legame così forte con il proprio pubblico. Come sta cambiando il mercato delle sponsorizzazioni? La crisi del mercato ha penalizzato tantissimo il mondo delle sponsorizzazioni perché sono diventati un vero e proprio lusso per le aziende che comunicavano. Qualcuno ha rinunciato totalmente a fare comunicazione, qualcun altro ha mantenuto la comunicazione tradizionale e ha tagliato il mondo delle sponsorizzazioni. Noi in questi anni non abbiamo perso quota di mercato, le aziende ci hanno dato fiducia perché noi non vendiamo cartelli pubblicitari ma vendiamo la possibilità per le aziende di fare business attraverso la sponsorizzazione. Sport ed evento, il connubio è perfetto. Quanto è importante puntare sull'engagement del tifoso? 100%, l'engagement è il nostro vero valore assoluto. L'engagement noi l'abbiamo dal vivo, quindi sono i contatti live, quindi tutti i sensi che rispondono nel momento in cui uno vive un'emozione. La vista, l'olfatto, l'udito, il gusto, quindi perché guardare una partita mangiando i pop corn è diverso che guardare una partita senza mangiare i pop corn. Quindi engagement totale, però soprattutto attraverso i media, quindi attraverso i video soprattutto, che sono quelli che meglio riescono a trasferire e a comunicare emozioni. Move Your Business, qual è il concept alla base di questo claim? Un modo nuovo di mettersi al servizio dell'azienda. È una campagna B2B che avrà tutta una pianificazione su tutta una serie di media e affissioni B2B e vuole comunicare e stressare il concetto che per RCS Sport il cliente è al centro. È una campagna che nasce da un nuovo posizionamento di RCS Sport che si definisce una sport business company dedicata al servizio dei clienti. One Stop Shop è la nostra definizione, c'è un'azienda che cerca di assolvere tutte le esigenze e tutte le richieste da parte dei clienti. È una campagna studiata e realizzata da McKenna, multisoggetto, con un nuovo claim che è RCS Sport, Move Your Business, e un visual. Sono nove personaggi rappresentativi delle categorie all'interno delle quali noi operiamo. Qual è il palenzesso degli eventi per il 2011? Si va dal ciclismo per poi passare al golf, l'Italian Open che si svolgerà a Torino, per poi andare alla maratona del 10 aprile e al reality The Run, per poi passare alla federazione italiana pallacanestro con gli europei in Lituania e per poi andare agli eventi dei nostri Champion for You. Penso di aver elencato tutti, è la Sport Business Academy che partirà da marzo del prossimo anno per tutto l'anno presso le sale della SDA Bocconi e anche attraverso dei momenti di convegni tavole rotonde.